ben ritrovati a tutti da marcus buona serata eccoci allora il 90 è uscito sulla nazionale primo colpo come vi avevo detto come è stato semplice non sulla quarta e la quinta posizione ma è uscito comunque al primo colpo avete visto quindi una frequenza dettagliata con il foglio xl si va a indovinare anche la frequenza non è stato così anche per le altre ruote però attenzione è uscito palermo dall'8pp gold guardate non era segnato come come forte non l'avevo segnato come forte però guardate di nuovo prima seconda posizione 90 palermo guardate ancora una volta all'8pp gold come va a mirare la riuscita nella posizione adesso all'appello quindi uscito palermo uscito sulla nazionale rimane venezia milano e napoli fate tesoro di queste informazioni quindi gli unici rimasti 90 che ci sono rimasti buoni sono venezia milano e napoli tenete bene a conto di questo nient'altro il file lotto data adesso l'ho appena aggiornato l'ho caricato su media fair quindi potete scaricare per i programmini noi ci risentiamo poi su telegram piano piano comincerò a mettervi tutti piano 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 ok eviterò i fermati poi per il costo mensile ci risentiamo buono sabato a tutti da marcus come sempre ciao